La primissima idea è stata sicuramente dopo aver rivisto per la decima volta Psyco di Hitchcock. Sai quando capita sempre quel click che ti fa, te lo fa vedere magari in una luce diversa o guardi dei dettagli diversi e da lì ho incominciato a riguardare un po' una serie di film di Hitchcock ed è diventato da lì proprio deciso che poteva essere l'ispirazione della prossima collezione. Innanzitutto quello che mi attirava sono sempre un po' le silhouette dei suoi personaggi femminili quindi siamo partiti proprio dai capi spalla cercando di togliere tutto quello che potesse essere comunque retro tutto quello che potesse fare vintage e di vederlo assolutamente in una chiave moderna.